Ancora motori e passione in questo ultimo blocco. E come da consuetudine parleremo a voi automobilisti da casa grazie ai consigli di Group Auto e Punto Pro. Hai detto proprio bene Miri, oggi ci dedicheremo ai cuscinetti e per farlo al meglio abbiamo invitato un super addetto ai lavori, Andrea Pizzi dell'azienda SKF. Benvenuto. Buonasera, grazie. Benvenuto, ma prima di ascoltare Andrea Pizzi facciamo partire questo video. La sicurezza del veicolo è l'inizio di ogni aventura in auto, non mettere a rischio i tuoi viaggi. Il mio Meccanico.pro ti spiegherà come fare. Sono Carlo, Meccanico.pro. Nelle nostre ufficine per mantenere valida la garanzia della tua auto installiamo solo i cambi di qualità originale equivalente, come i cuscinetti. I cuscinetti ruota hanno la funzione di ridurre l'attrito delle ruote e di interagire con i sistemi di sicurezza attiva. Come l'impianto frenante. Per questo devono superare severi controlli qualitativi di produzione. Per poter resistere a forti solicitazioni di guida ed assicurare ai clienti elevati standard di affidabilità su strada e nel tempo. Nelle officine.pro utilizziamo sempre cuscinetti di elevata qualità. La sicurezza è importante. Oggi parliamo di SKF. Antonio mi dà una mano? SKF è un marchio storico e leader nella produzione di cuscinetti mozzi ruota utilizzati dai principali produttori di veicoli ed in corso in tutto il mondo. La costante innovazione dei kit cuscinetti e accessori ruota ha permesso nel tempo a SKF di sviluppare design innovativi anche per kit dischi e tamburi freno, materiali leggeri ad altissima resistenza ed efficienza ed di integrare sensori ruota nei cuscinetti in grado di comunicare con i moderni sistemi di bordo della tua vettura. E molti prodotti sono realizzati in Italia. Esatto! SKF è orgogliosa di proporre ai propri clienti ricambi di qualità originale o superiore, con le caratteristiche del Made in Italy. Vieni a provare SKF da Punto Pro. Metterci alla prova conviene. Dopo questo bellissimo video, io ora vorrei chiedere ad Andrea chi è SKF? SKF innanzitutto è un importante produttore, una multinazionale di origine svedese, che ha deciso di impiantare diverse fabbriche nel mondo, tra cui anche in Italia. Abbiamo circa 3.500 dipendenti attivi, è un indotto abbastanza significativo nell'ambito industriale ed automotive. E crediamo insomma di mantenere questi valori, questi alti standard di qualità, fornendo le principali case automobilistiche di tutto il mondo e soprattutto anche team di Formula 1 e del mondo del motorsport in generale. Questo diciamo è una prerogativa importante, quindi altissima qualità, altissima eccellenza dei prodotti per riuscire a restare innovativi e performanti su tutti i mercati e con i principali clienti. E quali sono le caratteristiche che contraddistinguono i ricambi SKF? Beh, i ricambi SKF, diciamo attraverso l'esperienza con i nostri clienti, c'è una ricerca molto significativa, anche che parte da diversi centri di ricerca in tutti i paesi e quindi vogliamo offrire ai nostri clienti questa qualità. Questa qualità ovviamente è una qualità che passa attraverso il riparatore, è una qualità che passa attraverso l'utente finale, che l'utente finale può scoprire utilizzando giusto appunto i nostri prodotti. Quindi qualità, sicurezza sono gli aspetti fondamentali attraverso una rete di prodotti, una serie di prodotti, tra cui kit ruota, kit del motore, kit parti sospensioni. Tutti i prodotti che comunque nel futuro continueranno ad esistere nella vettura, anche quando sarà elettrica. Sono anche, come dicevi giustamente te Andrea, sono dei ricambi di assoluto valore per una macchina. La sicurezza è tutta lì. Assolutamente. Tenete conto che sulle parti ruota, giusto appunto, oggi c'è un'elettronica integrata che comunica con i sistemi di bordo. Quindi oggi se funziona un ABS, un EBS e comunque tutti i sistemi di frenata è anche grazie a cuscinetti che sono stati elettrificati. Tema importante, mantenimento della garanzia. Con SKF si può? Assolutamente sì. Non solo la garanzia legale, ma anche la garanzia dei due anni. Per quanto riguarda le manutenzioni ordinarie e straordinarie, facendo riferimento alla legge BER 1400 del 2002, ogni cliente può, giusto appunto, ottenere la garanzia e ad avere la certezza che il meccanico installa il prodotto giusto e anche, diciamo così, secondo i dettami del prodotto esatto da utilizzare su quella vettura. Perché tante volte ci possono essere errori di prodotto installato che possono portare a seri problemi. E questo evidentemente lo si fa attraverso la rete .pro e rete qualifici. Assolutamente. Mi hai anticipato. .pro.it per trovare l'autofficina più vicina a voi, dove naturalmente trovare anche i ricambi SKF. Io vado a ringraziare veramente tantissimo Andrea Pizzi per le sue perle di saggezza, possiamo dire. Grazie mille Andrea. Grazie a voi e buonasera. Buonasera. E vado a salutare e ringraziare la nostra Miriana Parlato. Grazie Ricky e buonasera a tutti quanti voi. Ragazzi, voi non cambiate canale. Grazie per averci seguito. Rimanete su queste frequenze. Questo programma è stato offerto da... Officine.pro. Metterci alla prova conviene.